Ciao da Mr. Helmet, adesso voi non mi credete, mettetevi comodi perché c'è da ragionare un po', non mi crederete, sono le 3 di notte, stavo per dormire, sono incappate in un articolo ma non può essere vero, mi prendono in giro, del 10 marzo, sono le 3 e 16, registro questo video perché sennò mi incazza, non dormo più, mi arrabbio e vi racconto questa storia ridicola di MV Agusta, KTM della stampa, ma che stampa abbiamo noi? Adesso vi dico, state attenti perché rimarrete scioccati, almeno per chi ha un minimo di senso della realtà, però prima vi dico, se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e super grazie e soprattutto l'abbonamento, ragazzi con l'abbonamento supportate una rivista che non ha problemi a dire delle cose e che le dice 2, 3, 4, 5, 6 mesi prima, una roba scandalosa, vi dico innanzitutto, cominciamo, storia MV, acquisizione, KTM, date varie eccetera e vi faccio vedere una cosa, questa è un articolo di Due Ruote, quindi rivista rispettabilissima, autore rispettabilissimo, 10 marzo, che scrive, MV Augusta inizia a parlare tedesco, come cazzo inizia a parlare tedesco? Inizia a parlare tedesco? Ma è da ottobre, in un comunicato sulla riorganizzazione della rete vendita, spuntano molti indizi che avvicinano sempre di più la casa varesina a KTM, ma come indizi? Ma porca puttana, ma come indizi? È come quello, il marito che torna a casa, trova una moglie in mezzo a due, ma sai che forse tu, come indizio, come fantozzi che apre il coso che viene giù il pa, indizi? La cosa era nota almeno dalla fine di dicembre, no cazzo, non è dalla fine di dicembre, è qui dal 30 ottobre, KTM si compra MV Augusta, la fine di dicembre, a gennaio, no, a ottobre, a novembre, dicembre, due mesi prima di quando dici tu, KTM si occuperà della gestione della rete vendita e commerciale di MV Augusta, non è così, non si occuperà della rete commerciale, si è comprata l'azienda, cioè frutto dell'accordo che ha portato la casa a entrare in MV con una quota di minoranza del 25, ma non è così, ma il comunicato è arrivato oggi, e qua c'è un po' di risveglio, che riportiamo integralmente, vi sono elementi che dicono molto di più, cazzo, dicono quello che ho detto io, e adesso vi faccio vedere dove, partiamo dalla nota stampa, MV Augusta Motorcycle GmbH, quindi una società tedesca, attraverso la propria filiale KTM Sport Motorcycle, va bene, ha avviato il processo della propria rete vendita e assistenza sul territorio, non della propria, della propria è di quella di MV Augusta, quindi non è solo che se tu avvii una ristrutturazione di una rete vendita quando l'azienda è tua, non quando l'azienda è di un altro, se no non lo fai, nell'ottica di posizionare il marchio prodotto di fascia alta, va bene, per gli operatori che fossero interessati a approfondire le opportunità eminenti è stata aperta una selezione, e qui è possibile accedere, quindi se volete potete diventare concessionari MV Augusta KTM, perché gli altri li hanno brasati. Una società tedesca, innanzitutto apprendiamo, apprendono adesso, 12 marzo, 11 marzo, 11 marzo, poi dopo non so quando lo manderò a questo video, che è stata aperta una nuova società di diritto tedesco austriaco, cazzo, ma chi l'avrebbe mai detto? MV Augusta GmbH, che utilizza come filiale KTM Italia, che è sotto KTM, quindi vuol dire che, eh, cosa vuol dire? Da un lato si può trattare di una mozza dovuta al fatto di dover gestire separatamente il business della ridistribuzione, eh, direi, ma di un'altra azienda però, altro elemento che desumiamo dal procedimento del comunicato, ma la nascita di MV Motorcycles apre anche altre due ipotesi, cazzo, a marzo, a marzo, una tutto sommato probabile, ah, è probabile, porterebbe a dire che questa potrebbe essere la società veicolo nella quale KTM farà confluire MV Augusta, recentemente risanata dai conti, e da chi? Dai conti, tramite i 25 milioni che gli hanno messo dentro, dopo esseri diventati socio di maggioranza, che succederà a marzo, come ho detto io? Ad ogni modo, attenendoci ai fatti, la collaborazione reale fra MV Augusta e KTM è ormai la realtà delle cose, chissà, chissà dove potrà spingersi, ma come è la realtà delle cose? È da ottobre, ma come dove potrà spingersi? All'acquisto di KTM, allora partiamo al contrario, ok? Vorrei partire al contrario, ovvero da quando MV Augusta ha cercato di chiudermi la bocca, va bene? Ed è qui, con questo tipo di comunicazione. MV Augusta vuole tappare la bocca a Mr. Helmet, in questo articolo io, ed era il, guardate bene, il 18 novembre 2022, era l'epilogo di tutta una serie di informazioni che io avevo dato, e alla fine cosa era successo? Che KTM, MV Augusta, dopo che avevo dato tutta una serie di documentazioni e di informazioni, mi diceva, mi scriveva, mi scriveva che mi voleva, voleva che io levassi tutti i video perché danneggiavano MV Augusta, tutti i video del sito Mr. Helmet, senza dirmi qua, il muovere immediatamente tutti i video e gli articoli, per aver detto al sito e le informo che MV Augusta, Moto S.P.A., la quale sta votando se si riserva di agire nei suoi confronti, questo me l'aveva scritto l'avvocato di MV Augusta il 15 novembre. Io poi ho fatto, mi è arrivato il 16, ho scritto un articolo il 18 novembre. Va bene, ma vediamo com'è iniziata la cosa. La cosa è iniziata non verso fine dicembre, è iniziata il 30 ottobre 2022. Il 30 ottobre 2022 ho scritto KTM compra MV Augusta, MV verso la MotoGP, poi vi spiegherò questo, perché all'inizio avevo ipotizzato che potesse fare, anziché gas-gas, una scelta molto più intelligente. L'acquisizione in due step salva MV Augusta da un fallimento certo, ma la strada è in salita. Ho raccontato tutto, ho spiegato tutti i momenti di MV Augusta da Kajiva, AMG con i tedeschi, l'arrivo dei Sardarov, i Lucky Project, la causa con Castiglioni e poi a settembre le cose da sistemare, così con KTM che entrava, il paragone con Usquarna, poi ho provato a fare anche due, una manchetta, insomma di una prova di moto e poi ho cercato di spiegare come sarebbe potuta essere l'MV in MotoGP e tutto il resto. Dopodiché ho scritto la news è successa, è uscito il comunicato e io dopo due giorni, quindi 30 ottobre, primo novembre, ho scritto KTM, MV Augusta, la news è uscita. Cosa succede adesso? MotoGP inclusa. Quindi nei due giorni successivi è successo un casino, mi hanno chiamato in tanti, così dopodiché hanno iniziato a copiarmi, mi ha copiato Speedweek, mi ha copiato Paddock, quello francese, mi hanno copiato altri siti, alcuni mi hanno citato, altri no, comunque va bene, ho scritto cosa sarebbe potuto succedere, che KTM avrebbe confermato, che avrebbe smentito, che ci sarebbe stata una reazione russa, è come se c'è stata, ma hanno pure scritto a me, l'ho spiegato la questione delle moto e poi ho spiegato la questione MotoGP che è stata una mia supposizione, l'ho detto e che l'ho detto anche nel video iniziale e che ho proposto una MotoGP brandizzata perché come desiderio sarebbe stato più bello che avere una gas gas più sensata e ci ho messo queste due foto, quindi va bene, poi ho spiegato tutto quanto, ho spiegato perché KTM vuole MV, ho spiegato che mi interessavano i posti di lavoro e tutto il resto, va bene? Dopodiché il 4 novembre, quindi due giorni dopo, sono uscito con un titolo un po' meno delicato, KTM si bomba MV e i russi guardano, cosa vuol dire? voleva dire che KTM entrava con il 25,1% ma che avrebbe, come avevo detto nel primo pezzo, come avevo detto nel primo pezzo, entrare a marzo, a fine 2023 con la maggioranza e poi con il controllo totale a 2024, è quello che ho poi riscritto qua, ho parlato di tutti i debiti che aveva MV all'epoca, ho parlato di chi controllava, ho parlato della gente che veniva mandata via, la gente che andava via, dopodiché ho parlato delle varie strategie e quindi di questa cooperazione strategica che abbiamo visto con la notizia uscita ufficialmente, dopodiché ho parlato di un sacco di dettagli finanziari e li vedete qui, ok? Tutta la parte dei soldi, la parte di chi, ok? Entro, guardate qui, 30 ottobre, il pezzo del 30 ottobre di un'acquisizione del 50% entro fine 2023 e del controllo totale entro il 2024, l'ho detto il 30 ottobre e l'ho ribadito qua, ok? Scusate se non l'ho trovato subito, ok? Dopodiché questo pezzo è stato un po' cattivello, troppi debiti, KTM sale, Sardaroff è amministratore delegato, Ponzellini presidente, ma suppo, qui ho raccontato un aneddoto di suppo che avrebbe proposto le Suzuki MotoGP e MMV, insomma delle partnership, eccetera, però ho parlato del fatto che entravano Luca, Martina e Verena, Schnellberg Grossman, ok? Un legale e uno strategico, ho parlato dei soldi, ho parlato che sarebbe salita la percentuale di MMV se KTM non avesse, di KTM, se MMV non avesse capitalizzato perché, diciamo così, i riscontri erano diversi dagli attesi, ho spiegato tutto, questi link ve li metto tutti, ho parlato di quanto, di Sardaroff come addi, ho parlato di una serie di situazioni finanziarie, di debiti da saldare, del concordato preventivo che non veniva chiuso, poi dopo è stato chiuso alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, i problemi con la rete vendita, le banche, i clienti che volevano le moto, il nuovo board con Sardaroff, ok? Con Sardaroff come amministratore delegato e poi due persone di KTM, Luca Martina, CEO di KTM Asia e Verena Schnellberger Grossman che è un ruolo di vice president legal, quindi un avvocato per sistemare le cose. Avremmo detto anche una cosa molto importante, la vedete qui nell'articolo di due ruote, ovvero di una nuova società che avrebbe gestito tutta la parte vendita finanziaria e business e distribuzione, mentre invece la parte costruzione e manufatturiera sarebbe rimasta in Italia in mano a Sardaroff. Ed è quello che ho scritto qua, nel frattempo MV Augusta non sarà più un'azienda vera, ma avrà solo la produzione, perché acquiste, vendite e tutto il resto saranno di KTM, ok? Poi ho parlato anche di CRC che secondo me verrà acquisita da Kiska, che è il designer di KTM, però l'avevo detto qui, già io avevo detto il 30, nel frattempo MV Augusta non sarà più un'azienda vera, ma avrà solo la produzione, perché acquisti e vendite e tutto il resto saranno di KTM che fornerà. Che è quello, io l'avevo detto qui, lo vediamo, è il 12 novembre 2022, ossia dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quattro mesi fa, e adesso ci raccontano, stupendosi, che c'è una nuova società, MV Augusta Motorcycle GmbH, che è GmbH, che sarebbe un SRL, o un SPA, quello che è. Ok? Quindi io lo dicevo qui, e adesso, e adesso viene fuori che forse, che insomma, ma fa un indizio, che è un indizio, ma chi avrebbe potuto dirlo? Poi dopo avevo detto che ci sarebbe stato un contrattacco di Sardarov, che Sardarov avrebbe aumentato il suo capitale, così è stato, perché poi in realtà, in realtà, si dice che, insomma, abbia initato attraverso degli asset, cioè magazzino, forniture, queste cose qui, più che con dei soldi, ma insomma poco cambia. Dopodiché avevo detto, nelle corse che succede, nella Supersport non succederà niente, c'è Quadranti con RC e tutto il resto, in Moto2 invece è evidente che per KTM che schiera delle Calix non ha senso tenere una mia menuzione, Giovanni Cusari negli anni si è scocciato, cosa che poi è successa. KTM Effect, 19 dicembre, Cusari lascia e se ne va e si fa la sua moto, cosa che Cusari ha confermato in un'intervista e cosa che poi è stata confermata dalla bellissima presentazione della sua motocicletta nuova, KTM, proprio un paio di forward by Cusari, quindi una moto tutta sua, né KTM, né MV, né Kalex, assolutamente di sua proprietà, quindi assolutamente non MV. Quindi io avevo spiegato questo, avevo spiegato che pagava 200.000 euro e che non li voleva più pagare, cosa di cui Cusari si è stupito e il fatto che lo sapessi. Dopodiché, questo Livio Supo voleva organizzare il reparto corso e questa è una delle anticipazioni che avevo dato. Tutto questo sfocio poi, e qui siamo attenzione, ancora al 12 novembre, tutto questo sfocio poi il 18 novembre in un diffida da parte DMV. Allora io qui cosa faccio? Faccio tutto il riepilogo il 18 novembre, avete anche un video, ma avete tutti questi pezzi sia in italiano che in inglese. La verità è che mi hanno chiesto di togliere i pezzi, i pezzi che avevo scritto. Ma la cosa bella è che subito dopo che io ho tolto i pezzi, cioè che mi hanno chiesto di togliere i pezzi, è successo quello che è successo, la ricapitalizzazione, cioè ovvero quello che io avevo anticipato ancora. Quindi ho detto, ma scusate no, ma perché io devo togliere i pezzi se quello che sto dicendo volta per volta non solo è giusto, è vero, è in anticipo, ma è anche tutto corrispondente alla realtà, nei modi e nei tempi, nelle cifre, nelle date, nelle percentuali, nella timeline si dice, cioè ovvero il, diciamo così, il susseguirsi degli eventi. Ma perché? Perché? Ma soprattutto no, io la domanda che faccio a voi, che ogni volta tempesto a cui rompo i conigli con la richiesta di abbonamenti, iscrizione, eccetera, ma perché la stampa queste cose non le dice? Cioè io voglio sapere perché la stampa normalmente si trova a dover fare degli articoli in cui dice ci sono degli indizi di KTM che si avvicinano sempre di più. Adesso non è la colpa di quest'autore che si chiama Gentili, che in realtà fa un articolo, magari lui gli hanno detto di scrivere un pezzo su questa cosa, non è obbligato a starci sopra, non è che può sapere tutto, però le aziende che si occupano di questo, intese come testate editoriali, che seguono le corse, che non fanno questo tipo di informazione. Cioè adesso ci sono degli indizi, il 12 marzo, degli indizi che MV Agusta forse non vende più le moto di persona, ma le vende KTM, che forse c'è una società tedesca, ma sono tutte cose che forse potrebbe essere la società veicolo nella quale KTM farà confluire. Ma è da ottobre che se la sono comprata e che stanno mettendo ogni giorno un piede in più, stanno licenziando dirigenti, prime linee sostituendoli, hanno tolto di fatto la vendita delle moto ad MV Agusta e se le vendono loro. Non c'è più una società, business, finanziaria, marketing, è tutto in mano degli austriaci e diciamo MV Agusta è diventato solo un produttore, un terzista che vende, che dà agli austriaci le moto da vendere e in più prenderà delle percentuali. Cioè che Sardaro versi a D, ma mi sembra di capire a D della parte di una parte della compagnia o comunque della compagnia ma dove però c'è un CDA diverso e tutto il resto, sono cambiate le cose. La collaborazione reale, 3 MV Agusta e KTM è ormai nella realtà delle cose, ormai nella realtà delle cose. Ma che cazzo? Ma io a ottobre questa cosa l'ho detta, l'ho detta a ottobre, l'ho detta a ottobre qua. Cioè io questa roba non lo so, il 30 ottobre, poi l'ho ridetta specificando bene il primo novembre, quindi due giorni dopo, poi dopo ancora l'ho ridetto il 4 spiegando tutto bene con i dati, con quello che sarebbe successo, poi l'ho ridetto il 12, poi mi sono un po' rotto i coglioni perché dopo mi hanno detto che dovevo stare zitto, che dovevo togliere tutti gli articoli, ma perché dovevo togliere tutti questi articoli? Perché le devono l'immagine di qualcuno, ho detto qualcosa che non è successo, ho detto tutto giusto, ho detto qualcosa di offensivo, non mi pare, mi sono inventato delle date, non credo, delle operazioni, non credo, delle situazioni, non credo, non è successo pari pari tutto quanto, ho anche detto che entro marzo, marzo sarebbero successi degli sconvolgimenti e adesso lo vediamo, hanno chiuso tutte le concessionarie, hanno tolto prima l'assistenza qualche tempo fa, adesso hanno tolto tutte le concessionarie, ne fanno di nuove, si fanno una nuova rete vendita, l'avevo detto, ribadisco, entro la fine dell'anno KTM avrà la maggioranza, entro il 2024, la fine del 2024 avrà il controllo e qui mi dicono che ci sono degli indizi, dopodiché ho scritto che si frega e i russi guardano cosa che è successo, perché c'è stata una piccola ricapitalizzazione, dopodiché ho scritto che c'erano dei debiti veri, sono usciti dal concordato preventivo, sono usciti dal concordato preventivo, ecco ho scritto che ci sono i debiti, sono usciti dal concordato preventivo grazie ai soldi di KTM, ho scritto che ci sono dei rischi che KTM si porti via MV per meno di quei soldi lì, perché se continuano a mettere soldi e gli altri no, e dopodiché diventano di maggioranza, e dopo mi volevano tappare la bocca, ho scritto che Cuseri se ne andava, e se ne è andato, ho scritto che Quadrante continuava, e continuava lato, ma io voglio sapere, ma che tipo di informazione c'è, ma per chi la devo fare io, o meglio, io lo so per chi la devo fare, perché a me piace, però la domanda è, poi quando io vi chiedo i soldi, come tipo Mastrota, che è il numero uno e mai sarò come lui, e dopo vado a dormire, cazzo che trovo, tra un quarto mi devo mettere a fare questi articoli perché leggo che ci sono degli indizi, ma che cazzo, ma come indizi, che forse è stata creata una nuova società, ma l'avevo detto, ve lo faccio rivedere come gli anziani, come era, ma avrà solo la produzione, perché acquisti, vendite e tutto il resto, saranno di KTM, che fornerà i pezzi ad MV, perché questa azienda ovviamente non ha debiti, li comprerà, e MV costruirà le motociclette e KTM ne comprerà il prodotto, e anche per il design, vedrete, CRC sarà venduta o smantellata o assorbita da Kiska, che è l'azienda che fa il design per KTM, ma adesso il 12 marzo 2023, ovvero ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, dopo cinque mesi gente che fa questo per lavoro, arriva e dice che ci sono degli indizi, cazzo, e quindi qualcuno secondo me, o io ho un dono, mi hanno paracadutato all'informazione, o abito dentro a MV in uno sgabuzzino e la notte esco per scrivere i pezzi sulla scrivania di Sardarov, perché sto a sentire tutto il resto, e so anche il russo fra l'altro, perché immagino che parlare in russo, oppure ho delle buone informazioni, sto attento, scrivo delle cose, ho anche della fortuna, del culo, un po' magari sento le cose, le metto insieme, ma sicuramente, sicuramente qualcun altro non riesce a fare bene il suo lavoro. Ora, spiegatemi voi che cazzo di, scusate se mi arrabbio, ma sono le tre di notte, stavo dormendo e ho sentito la necessità di scrivere questa roba, che non so quando ve la manderò, e non sono le tre di pomeriggio, ma sono le tre di notte, vi farei vedere, ma diciamo che c'è qualcosa che non va qua, c'è qualcosa che non va, ci sono degli indizi, forse, forse KTM, ci sono degli indizi, forse KTM, forse c'è una società tedesca, forse, forse, forse la collaborazione tra MV e KTM è nella realtà, è ormai nella realtà delle cose, ormai, ormai, ma io non ho, ma io veramente non so che cosa dire, ditemi qualcosa a voi che cazzo è, ma soprattutto se io avessi tolto tutti i pezzi, la domanda è perché mi hanno chiesto di togliere i pezzi e soprattutto se io li avessi tolti, cosa sarebbe successo? Cioè che qualcuno mi avrebbe come al solito intimidito per non farmi dire la verità, poi diritto di MV Agusta chiede la rimozione, per l'amor del cielo, però diritto mio di informazione, quindi vuol dire che qualcuno, che è quello che succede alla maggior parte dei siti, gli telefonano e quelli levano, stanno zitti, si fanno gli affari loro, come dice qualcuno, io non me li faccio, però come vedete è successo tutto, e adesso, adesso ci sono degli indizi, ma la f***a!